Musica Bentornati a Football Benchmark e bentornati ad Andrea Sartori, Club Aledo Sports di KBMG Ciao Luca Questa è la settimana di Juve-Napoli e allora non possiamo esimerci da raccontare anche noi Juve-Napoli per quanto riguarda i numeri, soprattutto per quanto riguarda i bilanci e come abbiamo fatto anche per il derby di Roma partiamo subito dai ricavi operativi delle due società cioè come funziona il bilancio di una società? Stanno andando bene, stanno andando male, sono virtuose? Da primo impatto, la prima cosa che mi verrebbe da dirti guardando questo grafico è la composizione del ricavo delle due società che la Juventus mi pare più equilibrata rispetto a Napoli al di là del più ricca Sì, più ricca diciamo ha un fatturato che è il doppio rispetto a quello del Napoli o poco più del doppio del Napoli anche se il Napoli è cresciuto del 40% rispetto alla stagione precedente è più equilibrata nel senso che il Napoli è più teledipendente il Napoli ha il 72% dei ricavi che derivano dalle televisioni nei ricavi del Napoli televisivi che sono 145 milioni fanno parte 66 milioni che derivano dalla UEFA per il raggiungimento degli ottavi di finale che poi perse con il Real Madrid La Juventus è stata la squadra europea che ha ottenuto il più alto contributo dall'UEFA con circa 110 milioni arrivando poi in finale a Cardiff che è appunto perse poi con il Real Madrid Direi che la differenza più eclatante è effettivamente sia sui ricavi commerciali che sui ricavi da stadio perché in ambedue le voci la Juventus ha praticamente dei valori che sono il triplo rispetto a quelli del Napoli 60 milioni circa, poco meno per quanto riguarda i ricavi da stadio mentre il Napoli è poco sotto i 20 milioni se guardiamo i ricavi commerciali la Juventus è a 120 milioni mentre il Napoli è a circa 36 milioni Altro elemento molto importante per giudicare le due società come al solido naturalmente sono i giocatori ma da un punto di vista finanziario al di là del valore tecnico che diamo noi alle due rose c'è un valore economico cioè come arrivi a comprare questi giocatori nel player trading qui abbiamo messo insieme le stagioni del Napoli in azzurro con le stagioni della Juventus in blu al di là dell'andamento quasi simile delle due squadre la Juventus in complessivo ha spesso di più per costruire la propria rosa Diciamo che l'investimento netto della Juventus negli anni è stato di 55 milioni mentre l'investimento netto del Napoli è stato di 43 milioni Vediamo che nella stagione 2016-2017 ambe due sono in positivo e chiaramente il risultato è relativo alle vendite mostre di Pogba in cui la Juventus ha realizzato una plusvalenza di 72 milioni al netto delle commissioni per il signor Aiola e Iguain del Napoli con cui la squadra azzurra ha realizzato una plusvalenza di 86 milioni Nelle stagioni precedenti vediamo che ambe due hanno speso di più rispetto a ciò che hanno incassato anche se il modo in cui lo sto presentando è un modo molto semplificato per far capire agli spettatori L'altro grande mark per cercare di capire se una squadra può essere competitiva o meno e quanto si riesce ad essere competitivi generalmente non è soltanto la costruzione della rosa ma quanto paghi il tuo campione fondamentalmente il tuo giocatore in questo caso la differenza è molto marcata La differenza è molto marcata praticamente la Juventus spende due volte e mezzo in più rispetto al Napoli e poi chiaramente l'altro parametro da valutare è il rapporto stipendi e ricavi ambe due le società ben al di sotto dei parametri consigliati dalla UEFA del 70% però la Juventus è attorno al 64% è vero anche che poi in questa diciamo statistica vanno tenuti in conto i premi che la Juventus ha dovuto pagare per la vincita della Coppa Italia la vincita del campionato e chiaramente l'essere arrivata in finale che indubbiamente ha un costo che penso la società abbia abbia anche sostenuto in maniera volentieri volentieri è un buon problema per la società altro dato direi interessante guardando i bilanci delle due società quando prendiamo il numero del personale sportivo e del personale amministrativo la Juventus quantomeno a bilancio ha tre volte i dipendenti del Napoli e per quanto riguarda invece visto che l'abbiamo fatto per le due romane te lo ripropongo anche per Juventus e Napoli per quanto riguarda invece il rapporto costo a punto cioè quanto costa un punto della Juventus all'ordo naturalmente e quanto costa un punto del Napoli sì il costo il costo al punto della Juventus nella stagione precedente in cui la Juventus ha fatto 91 punti era 2.9 milioni di euro è vero anche però che in un certo senso fare un paragone del costo totale rispetto ai punti del campionato senza tenere presente il cammino che fai nelle altre competizioni esatto perché tu costruisci una rosa per poi partecipare alle tre quindi diciamo che è più anche una curiosità quindi 2.9 milioni la Roma che è arrivata terza solo un punto dietro rispetto alla Roma in un certo senso è molto più efficiente perché ha speso 1.2 milioni di euro la Roma ne spese un miliardo un milione e settecento mila euro per quanto riguarda invece la redditività delle due squadre beh e qui ci troviamo di fronte a una situazione forse era ampiamente prevedibile rispetto anche al discorso che hai fatto tu prima di una buonissima situazione soprattutto per quanto riguarda l'ultimo bilancio che avete analizzato sì allora direi che sono due squadre molto bene molto ben gestite la Juventus qua mostra tre anni di profitti anche se diciamo il vero esploit è stato fatto nell'ultima nell'ultima stagione in cui chiaramente risulta esserci come dicevamo poc'anzi la plusvalenza di Pogba di Pogba quindi profitti accumulati dalla Juventus 49 milioni nei tre anni profitti accumulati dal Napoli nonostante due stagioni in perdita 50 milioni anche a livello di tassazione hanno pagato più o meno la stessa cifra 32 milioni la Juventus in tre anni 33 milioni il Napoli il fatto positivo comunque o perlomeno che balza all'occhio di questa grafica che abbiamo appena fatto vedere della Juventus è che comunque era in positivo anche al netto della plusvalenza di Pogba negli anni precedenti esatto esatto quindi nonostante degli investimenti importanti nella rosa e nonostante l'assenza di una plusvalenza così importante è riuscita comunque a non essere in rosso a proposito di plusvalenza a proposito di valori in rosa cerchiamo di capire a bilancio quanto valgono le due rose c'è il costo della composizione della rosa al netto degli ammortamenti da parte della Juventus e da parte del Napoli in questo caso possiamo dire che la Juventus fra virgolette correggimi se sbaglio ha speso molto di più perché avendole a bilancio questo tipo di fattori questo tipo di numeri questo è il valore netto contabile della rosa quindi è il costo storico di un giocatore al netto degli ammortamenti quindi ad esempio nel caso della Juventus c'è l'investimento di Higuain è incluso in questo valore di 302 milioni quindi possiamo vedere che il valore netto contabile della rosa della Juventus è il triple rispetto a quello del Napoli cosa interessante è che nel bilancio della Juventus moltissimi giocatori importanti Chiellini Barzagli Buffon Liekstein e Marchisio che viene dalle giovanili e lo stesso Pogba ai tempi erano praticamente a bilancio con dei valori vicini allo zero perché sono stati pienamente ammortizzati o nel caso adempio di Marchisio venendo dalle giovanili forse un po' la stessa cosa c'è anche nel Napoli c'è anche nel Napoli che insignia Reina che ha molto tempo esattamente quindi anche con questo si spiega il motivo della differenza social media perché ormai abbiamo capito che non possiamo fare almeno del parametro dei social media per capire anche le possibili evoluzioni che ci possono essere anche nei ricavi commerciali perché no beh qui la differenza obiettivamente è marcatissima sì la differenza è marcatissima diciamo otto volte il numero di follower della Juventus rispetto a quello del Napoli probabilmente derivante anche chiaramente dalla storia della società contano le vittorie naturalmente anche a livello internazionale certo contano le vittorie anche del passato indubbiamente il valore diciamo del marchio il riconoscimento del marchio però questo valore poi in un certo senso come vedevamo poc'anzi si va anche a tradurre in una grossa differenza a livello di ricavi commerciali perché dicevamo precedentemente che la Juventus ha il triplo dei valori commerciali rispetto al Napoli che comunque è cresciuto molto negli ultimi anni la stessa differenza più o meno si nota anche nei singoli giocatori perché abbiamo preso ad esempio i due giocatori più seguiti nei social della Juventus che come abbiamo avuto modo anche di riflettere sono due sudamericani Di Bale e Quadrato Quadrato sono due stranieri Reina e Mertens i due più seguiti del Napoli con una grande differenza fra i due top della Juve sì mi fa un po' di spiacere e l'abbiamo visto anche quando abbiamo fatto la puntata di Roma e Lazio che non c'è neanche un italiano in questa classifica qui vediamo appunto due sudamericani e come menzionavi giustamente a te e giustamente tu la forbice tra i due diciamo giuventini più seguiti rispetto ai napoletani è molto forte e in un certo senso questo a mio avviso mostra anche la mancanza di un giocatore di grandissima visibilità internazionale all'interno del Napoli mi verrebbe da chiederti poi magari cercheremo di trovare il modo di strutturare una puntata su questo se il Napoli con questo bilancio con questi numeri che deve far tornare può permettersi un giocatore con grande riconoscibilità internazionale perché questo comporta non solo lo sforzo per comprarlo ma anche poi lo sforzo per pagargli uno stipendio che sarebbe molto elevato poi puoi anche non rispondere a questa domanda se vuoi fuori programma però se vuoi vai sì indubbiamente c'è una relazione tra il livello dei ricavi e gli investimenti che appunto una società si può poi permettere e in un certo senso anche questa relazione tra Juventus e Napoli mostra questo come del resto abbiamo visto in puntate passate la relazione tra la Juventus e le altre grandi europee dove la Juventus non si può permettere certi investimenti come ad esempio possono fare Barcellona e Real Madrid e forse è determinato anche dal valore di impresa che è un parametro molto importante per cercare di capire la stima delle società la Juventus è l'unica società italiana nelle prime dieci il Napoli ha 410 milioni di euro la ventesima del mondo sì diciamo la Juventus secondo le nostre stime al primo gennaio 2017 vale tre volte in più rispetto al Napoli a livello europeo e come dicevi giustamente la Juventus è l'unica italiana nelle top nelle top ten però direi che il Napoli essere ventesimo a livello europeo è un risultato di tutto rispetto possiamo dire che è in linea anche con le altre big italiane visto che se non ricordo male la Roma e l'Inter più o meno gravitano intorno a quella posizione di classifica per quanto riguarda il valore di impresa sì e secondo appunto i nostri dati Roma e Inter sono diciottesimi e diciannovesimi molto molto vicini al Napoli mentre la seconda squadra di più alto valore rimane il Milan bene allora grazie ad Andrea Sartori per questa panoramica su Juventus Napoli l'appuntamento con Football Benchmark naturalmente torna la prossima settimana grazie a tutti